E ritorniamo insieme, lo facciamo per parlare di libri di bambini di educazione, lo facciamo con Paola Fontana, una docente che si dedica da anni alla didattica e all'attivo oltre 500 pubblicazioni. Che dire Paola, complimenti, buongiorno e bentrovata. Buongiorno, buongiorno, bentrovati, grazie per l'invito. È un piacere essere qui con voi. Grazie a te per la disponibilità, il piacere è reciproco, anche perché appunto quando si parla di educazione, didattica, formazione, siamo tutti coinvolti, perché come dice quel vecchio adagio, Maria Pia, non si finisce mai di imparare. Da questo punto di vista il titolo che hai dato alla tua più recente pubblicazione ha un'intuizione che mi piace molto. Infatti il titolo recita, tu insegni, io imparo e viceversa. Guida, guida pratica per bambini ed educatori. Ecco, lo stiamo vedendo, stiamo vedendo la copertina proprio in questo istante a tutto schermo, per cui ecco ti chiederei le motivazioni di questa pubblicazione proprio a partire dal titolo. Sì, è proprio così come tu mettevi in evidenza. Il processo formativo ed educativo è un processo osmotico che prevede il dare e l'avere tra adulti e bambini. Questo progetto editoriale nasce per rispondere alla straordinaria chiamata di Papa Francesco che ci invita a dare attenzione ai bambini e a celebrarli, così come è stato, con la prima giornata mondiale dedicata ai piccoli durante il fine settimana scorso. Noi abbiamo risposto, io come autrice e ancora UAU di Milano come editrice, a questa chiamata con un progetto che ci sta molto a cuore e che è diretto, è rivolto a tutti gli adulti che abbiano a cuore l'educazione dei piccoli, perché come ci ricorda Don Bosco, l'educazione è cosa del cuore. Quindi nasce per l'occasione della giornata mondiale dei bambini, ma nasce anche perché andiamo incontro all'estate, i bambini rimangono a casa, le scuole chiudono, che cosa fare insieme con loro? Spesso i genitori si trovano in difficoltà, spesso c'è poco tempo, poche idee, poche iniziative, questo è un piccolo prontuario, dico piccolo in senso comunque positivo, piccolo ma molto denso, molto intenso, sono 64 pagine di linee guida, di suggerimenti rivolti ai genitori, c'è tutto un impianto didattico, nelle pagine di sinistra guardando il libro, ed un impianto invece creativo di materiali spendibili con i bambini, quindi sostanzialmente l'obiettivo è quello di consentire ai genitori di autoformarsi in maniera divertente anche, chiara, e di spendere ciò che essi stessi in prima persona hanno appreso con questo libro, con l'esperienza diretta e quindi con il bambino, proprio andando incontro all'estate in cui c'è questo tempo libero, che è una risorsa fondamentale, il tempo libero è davvero una ricchezza oggi, come impiegarlo con i bambini? Ecco, attraverso la condivisione di questo libro non sarebbe male, che prevede appunto il dono della lettura, che è il vero atto d'amore oggi da rivolgere ai bambini, perché non si legge più i bambini, non si raccontano più fiato, storie e favole, questo ci dà l'occasione per tornare a farlo. Tocchi un tema a noi molto caro e sicuramente ecco anche la collega Maria Pia è molto sensibile a questo argomento, quindi prima di chiederti di farti un'ultima domanda velocissima su un argomento che sviluppi nel libro, volevo chiedere a Maria Pia se voleva... Sì, io devo intervenire proprio sulla questione della scuola con un'ultima notizia che traggo da Il Quotidiano Avvenire, perché è intervenuta purtroppo parlando di bilancio molto preoccupante dell'anno scolastico che si sta chiudendo, la presidente della Fidae Virginia Kaladic, il che significa tutte le scuole primarie e secondarie, le scuole cattoliche. E pensate, nonostante quello che a volte noi pensiamo, cioè che a destra favoriscono di più magari le scuole cattoliche, a sinistra di meno, accadono anche cose inverse. Bisogna sempre andare a verificare anche per appunto poi valutare quello che vogliamo fare nella cabina. Non è una grande conquista del nostro Stato perdere strutture storiche che da secoli sono baluardo per il territorio. Non è segno di civiltà privare i cittadini della libertà di poter scegliere l'indirizzo educativo da dare ai propri figli. Io vi ricordo che anche una questione di lessico, una volta si pensava che la scuola pubblica fosse la scuola statale, invece i due termini non sono sinonimi, ricordiamolo sempre. La scuola è sempre pubblica per interesse, per quello che gestisce. Poi c'è la distinzione scuola statale e scuola privata. E invece che notizie arrivano? Che sempre più istituti paritari fanno fatica a confermare il servizio alle famiglie. per nuovi e inattesi tagli ai contributi statali, il che mette a rischio la sopravvivenza stessa del secondo pilastro del sistema di istruzione pubblico del nostro Paese. Mi sembra molto rilevante dare spazio a questo. Mi dispiace se l'ho tolto all'ospite, ma sicuramente si parla di scuola. Ci dai la possibilità di ribadire l'importanza dei libri e l'importanza della lettura, perché molti anni fa, quando la scuola non aveva raggiunto i traguardi che ha raggiunto, poi in termini di accessibilità per tutte le fasce sociali, per le diverse fasce d'età, i libri erano una preziosa fonte di crescita personale. Per cui, ecco, tornando all'opera di Paola Fontana, Paola ti volevo chiedere in che cosa consiste la pedagogia delle tre A di cui si fa riferimento nel libro. È un approccio educativo, una summa della mia esperienza, in primis come artista, successivamente come autrice di libri per bambini, e infine, ma non per importanza, come mamma di quattro ragazzi ormai. Grazie, grazie mille. Attraverso questa esperienza, anche l'esperienza di insegnamento, sono giunta ad una sintesi che cosa è davvero importante con il rapporto con i bambini, con i propri figli. Tre cose fondamentalmente, molto semplici, ritornare ad essere analogici. A come attenzione, A come affettività e A come arte. Attenzione, chi è che oggi non ha bisogno di attenzioni? Ma un'attenzione che non sia distratta, che non sia di superficie, perché spesso noi dedichiamo del tempo ai figli e ai bambini, che non è un tempo di qualità, perché siamo presenti ma assenti con la testa. Siamo spesso rivolti con lo sguardo ai dispositivi elettronici, al computer, al cellulare, piuttosto che magari guardare negli occhi i nostri piccoli allievi, i nostri piccoli, i nostri piccoli. Mi piace proprio chiamarli così, perché questo termine è presente nei Vangeli. Quindi un'attenzione che sia epurata da distrazioni esterne. Poi un ritorno all'affettività, perché il bambino necessita di attivare dei processi emotivi e quando lo si fa? Lo si fa appunto nella fascia di età che va da 0 a 3 anni in particolar modo. Quindi l'affettività intesa come bagaglio di coccole, potremmo dire, per insegnare ai bambini anche a distinguere qual è l'attenzione e l'affettività sana dalle eventuali molestie e atteggiamenti maliziosi. Un bambino in maniera molto naturale ti si avvicina, ti regala un fiore, ti regala il suo mondo interiore attraverso quelli che noi spesso bolliamo come semplici, inutili scarabocchi. Ma non sono scarabocchi, sono dei doni dell'anima, perché il bambino è un piccolo scrigno di attitudini preziosi. Quindi riservare un'attenzione al dialogo, al contatto visivo, all'affettività espressa con tutto il corpo, significa comunque non riempirlo di orpelli materiali, di cose inutili che vanno a riempire un vuoto che non va riempito con giocattoli, dispositivi elettronici, regali, fisici, materiali, ma appunto con un tempo di qualità da condividere. E poi l'arte, perché io essendo una pittrice, musicista, prestata all'educazione e alla formazione, trovo che i linguaggi espressivi siano veramente una chiave di accesso fondamentale nel rapporto educatori, adulti e bambini. Grazie Paola, davvero preziosa questa chiacchierata che abbiamo fatto con te stamattina, tanto più che mi piace ricordare che un euro dalla vendita di ogni libro sarà devoluto a Caritas Ambrosiana, per cui non manca davvero nulla a questa tua opera preziosa, a questo tuo impegno nella educazione dei bambini, dai quali, come già detto, possiamo anche noi grandi imparare tanto, anzi dobbiamo imparare tanto. Bene, allora invitiamo... Assolutamente sì. Invitiamo le nostre telespettatrici, i nostri telespettatori ad andare a cercarti in rete per conoscerti anche meglio, per acquistare le tue opere, magari per regalarle a genitori e figli, quindi a figli e nipoti, se nel caso si trattasse di nonni. Possiamo seguirti su qualche pagina social in particolare, hai un sito web? Sì, 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 ho un sito web che è Paola Fontana Didattica, una pagina dedicata che condivido con il mio gruppo di lavoro con le insegnanti di tutta Italia che si chiama Arte Maestra su Facebook e poi due profili su Instagram che sono appunto la didattica di Paola Fontana e Sibilla Azzurra Pittrice. Sono diverse le chiavi di accesso alla mia arte, alla mia opera, al mio contributo didattico, quindi vi aspetto numerosi, seguiteci, seguite le nostre attività e se volete partecipate, insomma, ecco. Molto volentieri, io ti ho già cercato e ti sto seguendo, così che magari anche in futuro ci si possa ritrovare per continuare a parlare appunto di didattica ed educazione. Grazie Paola, buon proseguimento di giornata. Volentieri e grazie, buona giornata. Grazie a te, buona giornata, buon proseguimento di giornata e buon weekend. Maria Pia, noi ci fermiamo un attimo ma ci troviamo subito insieme, ma anche perché dobbiamo andare a scoprire cosa sta combinando il nostro amatissimo padre guardiano Frarinaldo Totaro nell'orto del convento.